Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi siamo qua sul negozio di Star Stable E oggi vi mostrerò due codici promozionali che sono attivi Eccoci qua Allora, i codici promozionali vi danno dei regali Partiamo subito da questo posto Allora, questi bellissimi codici che oggi vi mostrerò Allora, vi daranno, avete presente la giacchetta d'oro che vi danno al festival dell'equitazione dopo quel quiz? Bene, allora ragazzi, oggi andiamo a prenderci altre giacche Esatto, perché abbiamo il codice Silver Jacket E lo fate e vi arriva un premio che fra poco vi farò vedere Oltre a questo però ce n'è un altro Che è bronze, se non erro Credo, eh? Non so Giacchette Bronze Jacket Se non erro, vediamo Cosci accettato, esatto ragazzi Ok Torniamo su Star Stable Allora, questo è un video un po' breve Anche perché sto aspettando per questo torneo Quindi sono qua a Vilday Allora, come potete vedere ho una lettera Allora, ecco Gift for you Hello Linda, here comes a present for you Clicchiamo per prendere l'oggetto E voilà Abbiamo altre due giacchettine decisamente adorabilissime Scusate Ok Guardate che carine Abbiamo questa qui Aspettate che Qui, se no non capite chi sono e cosa cavolo sto facendo Perché con tutte queste persone non si capisce nulla Allora, dicevamo Allora, ora io sono con McChocolate Aspettate che vado un po' più avanti Allora Vediamo la chat Oddio Ok, scusatemi Che ora apro pure l'inventario Aspettate Ora, ecco Stoppiamoci un attimino Cavallino Allora, come potete vedere Con il codice Bronze Jacket Vi daranno una bellissima giacchettina Vabbè, dai Ma dai Qui è bronzo Oddio, scusate Questa adorabile Veramente adorabile Giacchettina di bronzo Cioè di bronzo, nel senso Color bronzo, ecco Poi dopo di che Vi daranno Cioè nel senso Con l'altro codice Quello Silver Jacket Vi daranno Questa qua Silver Cioè Argentata Perché giustamente Silver Jacket No Allora E niente Questo era un video Un video Molto breve Anche perché Oggi vi volevo far vedere Solo questi codici E anche perché Tra poco inizia il torneo E niente Spero che questo video Vi sia piaciuto Anche se è molto breve E niente Ciao a tutti i questions Saluta Milk Cioè Milk Chocolate Comunque vabbè È Milk Chocolate Allora E niente E così fu Cioè Allora Perché sinceramente Ragazzi Non saprei cosa fare Io di video Perché Ora continuo la serie Naturalmente Però Oggi ho voluto postare Un video un po' così corto Vabbè Ci siamo già salutati Quindi mi pare che sia Veramente il momento Di salutarci ufficialmente Anche perché Se no Qua Un valutio al torneo Oddio Che cavolo sto amando Allora comunque E Ok Niente Oddio